Benvenuti a questa seconda lezione dove vedremo la dashboard, quindi la vostra area di lavoro e come creare un nuovo progetto. Allora, iniziamo subito dall'esplorare la dashboard. Qui in alto a sinistra avete il vostro nome utente e la vostra immagine profilo, che naturalmente in questo momento non c'è. Se volete caricare un'immagine profilo oppure andare a modificare quello che è il vostro nome utente, che può essere anche cambiato, eccolo qua. Basta cliccare sopra l'immagine, entrate sulle informazioni sul profilo e qui potete prima di tutto andare a scegliere un'immagine, mettiamo questa, ecco, e salvare le modifiche. Quindi, salvando le modifiche, vedete che compare l'immagine che ho scelto. In questo caso ho messo il nostro logo. Per ritornare sulla pagina della dashboard, quindi quella da cui siamo partiti, molto semplice, basta cliccare sul simbolo di Tinkercad. In automatico venite ritrasportati nella vostra pagina personale. Vedete qui, adesso, sopra il vostro nome utente è comparsa l'immagine che avete caricato. Subito sotto al vostro nome utente avete questi tre menu. Progetti 3D, circuiti e lezioni. Qui, via via, che andrete a disegnare, a creare i vostri progetti, li ritroverete. Quindi Tinkercad ha una funzione molto utile che è quella di salvare in cloud tutto ciò che viene prodotto. Quindi in progetti 3D troverete tutti i modelli per la stampa che sarete andati a creare. In circuiti troverete, come vi accennavo nella prima lezione introduttiva, la possibilità di andare a simulare la costruzione di circuiti. In lezioni, qui avrete via via la possibilità di seguire delle lezioni online anche direttamente su Tinkercad e quindi fare altri esercizi di approfondimento. Codeblocks è l'una delle ultime novità che sono state inserite e qui avete la possibilità di modellare direttamente con il codice. Su questo faremo una lezione specifica di approfondimento per farvi vedere più o meno come funziona. Quindi in questo momento chiudo tutto e ritorno alla mia pagina personale. Come avete visto, tutte le volte che volete tornare alla vostra dashboard ma non siete sicuri di come fare, la cosa più veloce è quella di cliccare sul logo qui in alto a sinistra e venite subito ritrasportati alla pagina iniziale. Taglia. Altri due collegamenti molto utili li trovate invece nella barra in alto a destra e sono i primi due, galleria e blog. Iniziamo con galleria. Cliccando su galleria vedete vi si apre una pagina dove tutti gli utenti registrati a Tinkercad possono condividere i lavori che hanno realizzato. Come vedete ci sono cose anche estremamente complesse. Basta scorrere un attimino per vedere anche la complessità. Guardate per esempio questo biplano dei progetti che tutti creati all'interno del software. Quindi tutti creati a partire da forme semplici, da forme elementari. Vedete ci sono dalle creazioni più semplici a, come vi dicevo prima, modelli molto molto complessi. Qui se vi volete divertire a esplorare, a navigare un po' tra quello che hanno creato altri utenti potete continuare a scorrere la galleria per un bel po'. Vedete a un certo punto vi dice carica altri progetti e ve ne fa vedere, ve ne visualizza altri. Quindi continuando piano piano troverete veramente tante tante idee anche come spunto per partire per un vostro progetto. Benissimo, quindi come sempre giusto per, diciamo, automatizzare almeno quelli che sono i comandi generali torno sulla mia dashboard cliccando sul logo di Tinkercad. Una volta tornati in dashboard andiamo a vedere quindi l'ultima parte, quella del blog. Se cliccate su blog vedete si apre in una finestra a parte e qui trovate gli ultimi articoli pubblicati dove c'è un po' di tutto, dai concorsi a premi alle buone pratiche. Una molto utile pubblicata pochi giorni fa, se vedete questo, è questo update sul collegamento tra Tinkercad e Google Classroom quindi la possibilità di condividere i vostri progetti direttamente in Google Classroom. E qui se vedete scorrendo un po' c'è tutto l'articolo naturalmente in inglese che però vi spiega passo passo quella che è stata l'esperienza e quindi come fare a riprodurla anche all'interno della vostra classe. Una cosa molto utile per chi ama le scorciatoie da tastiera è questa parte qua, questa sottosezione del blog dove sono raccolte tutte, come potete vedere qui sotto, le più comuni scorciatoie da tastiera da utilizzare. Se preferite esiste anche la versione PDF scaricabile, può essere utile per velocizzare alcune operazioni. Benissimo, quindi il blog poi come tutti i blog naturalmente bisogna un po' seguirlo per vedere le novità, quello che esce e magari se qualcuno di voi vuole potete anche proporre voi degli articoli sulla vostra esperienza e vederli pubblicati sul blog di Tinkercad naturalmente in inglese. Bene, allora chiudo a questo punto questa scheda e torniamo nella nostra dashboard. Ci manca solamente un pulsante che è quello, diciamo, centrale all'interno della vostra pagina personale ed è quello che utilizzerete sicuramente più spesso, quindi il pulsante Crea nuovo progetto. Se vado a cliccare qui sopra vedete che viene caricata la vostra area di lavoro all'interno della quale dalla prossima lezione vedremo come costruire delle figure tridimensionali. Benissimo, con questo chiudiamo anche questa seconda lezione introduttiva. Grazie a tutti.